Domani Italia, buongiorno. Buongiorno, ho effettuato un ordine sul vostro sito qualche giorno fa. Purtroppo non è ancora arrivato. Per caso riuscirebbe a dirmi quando arriverà o se posso controllare nella mia area utente? Certamente. Potresti darmi il numero dell'ordine o il numero cliente, per favore? Allora, vediamo. Il mio numero dell'ordine dovrebbe essere 1, 4, 7, 3, 6, 5. Sì, allora, vedo che il tuo ordine è stato spedito già da un paio di giorni. Puoi comunque controllare tu stesso l'avanzamento della spedizione con il tracking. Ah, ok. Non avevo visto che c'era questa possibilità. Ma dove posso trovarlo, velocemente? Allora, guarda, il numero di tracking lo dovresti aver ricevuto sia via e-mail, con la conferma della spedizione, che sulla tua area cliente, nei dettagli dell'ordine. Ok, adesso lo vedo anch'io. Scusami, ma la connessione è un po' lenta. Tu riusciresti a dirmi se è in atto la consegna del corriere? Come no? Allora, guarda, secondo quello che dichiaro PS, il tuo pacco dovrebbe essere in consegna domani, tra le 9 e l'una. Ah, perfetto. Nel frattempo si è caricata la pagina anche a me. Ti ringrazio tantissimo, sei stato veramente utile. Almeno domani posso farmi trovare pronta per la consegna. Grazie a te. Richiamaci se hai bisogno di qualcosa, una giornata. Lo sai cosa abbiamo in comune con te? La tua stessa passione per la musica.